Buongiorno a tutti, in particolare i presenti a questa conferenza stampa del Sinodo della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, agli ascoltatori di Radio Beckwith Evangelica che ci ascoltano in diretta e agli ascoltatori di Radio Voce della Speranza, indifferita oggi pomeriggio. Oggi parleremo dell'otto per mille della Chiesa Valdese. Il Sinodo ieri ha discusso l'argomento e pertanto ha approvato anche degli atti relativi all'otto per mille, all'utilizzo dei fondi, la ripartizione degli stessi. Abbiamo con noi stamattina Susanna Pietra, che è la responsabile dell'ufficio otto per mille della Tavola Valdese, e il pastore Gianni Jean, anche lui coinvolto nella gestione dei fondi dell'otto per mille. Quindi abbiamo due persone che gestiscono e conoscono benissimo l'argomento. Per questo vorrei iniziare subito da una modifica apportata dal Sinodo ieri nella ripartizione dei fondi, che vengono utilizzati per sostenere progetti in Italia e all'estero. Come sanno tutti gli ascoltatori di questa conferenza stampa, la Chiesa Valdese non utilizza questi fondi per il sostentamento dei propri pastori, per le proprie chiese, per le attività di culto, come si suol dire. Non un euro viene utilizzato per finire il culto, ma vengono tutti utilizzati per progetti di assistenza culturali e sociali in Italia e all'estero. Fino a ieri, fino a quest'anno, la ripartizione era del 50% all'Italia e dei progetti che fossero indirizzati in Italia 50% e 50% all'estero. Il Sinodo ieri invece ha variato queste percentuali portandole sempre in modo paritario, ma abbassandole al 40% per i progetti Italia e 40% per i progetti all'estero. Mi avanza un 20% se la matematica non è un'opinione. Quindi chiederei a Susanna Pietra di spiegarci questa novità. Sì, in effetti 40% più 40% avanza il 20%. Cosa vuol dire? Vuol dire che a fronte anche delle valutazioni che l'Ufficio 8x1000, la Tavola Valdese e la Commissione 8x1000 che si occupa della valutazione dei progetti hanno iniziato a fare in questi ultimi anni, ci si è resi conto che in qualche modo cristallizzare a priori la realtà dividendole in due quote assolutamente poi non toccabili e non modificabili rappresentava un ostacolo in quello che è il nostro lavoro invece di voler proprio rispondere a quelli che sono i bisogni della realtà che cambiano continuamente. Per cui l'idea è proprio quello di garantire una sorta di flessibilità a seconda delle nuove esigenze, delle emergenze, delle situazioni improvvise che si possono venire a creare o in Italia o all'estero. Per cui il nuovo meccanismo sarà di fatto così articolato per l'Italia e per l'estero l'ammontare complessivo delle assegnazioni non potrà essere inferiore al 40%, con una quota del 20% che invece può oscillare da un settore ad un altro a seconda appunto delle necessità. È chiaro che qualora la qualità e i bisogni fossero diciamo esattamente uguali come è accaduto in passato, insomma la ripartizione 50-50 non è completamente superata, si è solo provato a creare un meccanismo un pochino più flessibile proprio per facilitare il nostro lavoro. Benissimo e quindi a questo punto possiamo chiedere al pastore Gianni Jean, che fa parte di questa commissione di valutazione, di spiegarci quali sono le problematiche di cui si trova davanti questa commissione, quindi si troverà ad esaminare i progetti presentati da associazioni no profit, cooperative sociali e mi sembra che il discorso si chiuda un po' a questi soggetti per via delle intese stipulate con lo Stato italiano, cioè organismi profit da reddito non possono beneficiare dell'otto per mille della Chiesa Valdese. Certo è un ruolo abbastanza difficile perché il numero di progetti che sono stati presentati alla Tavola Valdese negli ultimi anni è salito a dismisura e quindi avete una grossissima responsabilità poi nella scelta, nel capire le reali finalità di questi progetti immagino. Questa è una delle questioni più importanti, cioè cercare di comprendere come si possa effettivamente analizzare, come si possono effettivamente analizzare e valutare tutti questi progetti, insomma, che poi noi in parte ma in minima parte conosciamo, nel senso che sia l'ufficio di Roma incontra sovente le persone che presentano questi progetti, sia i membri della commissione stessa personalmente possono conoscere alcuni di questi progetti, le persone che sono coinvolte in alcuni di questi progetti, ma è del tutto evidente che la maggior parte dei progetti invece noi non li conosciamo e non conosciamo chi c'è dietro, quindi c'è un'analisi io credo abbastanza seria che in un primo momento fa l'ufficio stesso, insomma, e che dà una prima valutazione e che poi i membri della commissione sono tenuti a fare guardando i bilanci, guardando la domanda, cercando di capire chi sono le persone che gestiscono questi progetti. È evidente anche che abbiamo sempre timore di fare delle valutazioni sbagliate, insomma, per esempio, di pensare che effettivamente un progetto sia significativo e meriti di essere sostenuto e poi di scoprire, pensiamo soltanto alla questione delle cooperative coinvolte nella grande questione di mafia capitale. Ecco, non è semplicissimo ad una prima lettura e anche ad una lettura più approfondita capire quali sono gli interessi in gioco. Dunque questo sta diventando effettivamente una questione sulla quale stiamo lavorando. Probabilmente la commissione stessa, l'ufficio è già stato potenziato e forse lo sarà ancora un pochino e la commissione stessa potrà avvalersi di qualche membro in più perché il lavoro effettivamente è molto impegnativo. Ci vorrebbero dei mesi e dei mesi soltanto per vedere, per leggere, per analizzare questi progetti. Intanto volevo dire una piccolissima cosa sulla questione della flessibilità delle percentuali perché ad una persona che ascolta, se qualcuno di voi ci ascolta alla radio eccetera, pensa ecco hanno spostato al 60 per cento sull'Italia tagliando di fatto sull'estero. Non è proprio così perché poi molti dei progetti italiani, tra virgolette, sono progetti volti a sostenere l'accoglienza per esempio degli immigrati o la cura, il prendersi cura di queste persone. Sono numerosissimi ecco i progetti che sono laici e che a volte addirittura sono sostenuti da iniziative cattoliche anche. Non abbiamo pregiudizi in questo senso ecco. Questo ci permette anche di vivere un dialogo con delle realtà che sono molto diverse fra di loro. Allora per quanto riguarda il compito, tornando al compito della nostra commissione, è anche importante il momento che abbiamo di confronto. Noi trascorriamo alcune giornate particolarmente intense a Roma, forse troppo intense insomma perché è una sorta di conclave nel quale noi ci chiudiamo dalla mattina alla sera tardi senza uscire, dove mangiamo qualche così, ma dove cerchiamo un confronto reale su alcuni progetti che sono quelli che fanno più discutere perché alcune realtà le conosciamo, alcuni membri della commissione forse dicono dobbiamo dare fiducia, altri esprimono delle maggiori perplessità ed è nel confronto anche con l'ufficio che è sempre presente ovviamente con il moderatore che presiede, il moderatore della tavola valdese, il presidente delle nostre chiese che presiede le nostre riunioni, è nel confronto che riusciamo poi a trovare un consenso che ci consenta di dire sì possiamo sostenere questa iniziativa anziché quest'altra, ormai si parla di migliaia e migliaia di progetti ecco, quindi per esempio sull'Italia tra virgolette credo che abbiamo rifiutato qualcosa come il 75-80% dei progetti che ci sono stati sottoposti e certamente fra questi ve ne sono di meritevoli che non riusciamo semplicemente a sostenere nonostante sia cresciuto enormemente la somma a nostra disposizione negli ultimi anni, in particolare con le scelte non espresse, ma credo che non ci sia bisogno di spiegare il meccanismo ecco che presiede alla suddivisione di questo denaro. Grazie, sicuramente non tutti sono consapevoli di qual è il reale meccanismo, però diciamo non è in questa sede, forse ce ne sarebbe bisogno sempre di spiegarlo, anche perché proprio recentemente la Corte dei Conti ha avviato un'indagine conoscitiva proprio in merito a questo per capire, essendo i soldi dell'otto per mille, soldi degli italiani, una percentuale dell'IRPEF, del gettito IRPEF e degli italiani, lo Stato italiano finalmente per la prima volta forse ha cercato attraverso la Conte dei Conti di fare un'indagine per capire l'utilizzo e il livello anche di conoscenza degli italiani dell'utilizzo di questi fondi. Quando è terminato il lavoro con un convegno, immagino mi sembra di ricordare il lavoro della Corte dei Conti, già il moderatore si espresse con una comunicazione ufficiale che ha ribadito in un intervento al Sinodo ieri, nel senso di dire che noi non abbiamo assolutamente paura, anzi applaudiamo questa azione di trasparenza da parte dello Stato italiano, perché la trasparenza ha sempre caratterizzato anche la nostra gestione dell'otto per mille nella consapevolezza, appunto ha ribadito il moderatore ieri, che questi sono soldi degli italiani e che non vengono utilizzati per il sostestamento della nostra Chiesa, anzi la nostra Chiesa non teme anche eventuali cambiamenti legislativi per cui dovesse modificarsi il regime dell'otto per mille. Però questo significa anche che il Sinodo ha chiesto e ha discusso un maggiore impegno dal punto di vista anche del controllo del progetto, una volta che il progetto è stato selezionato dalla Commissione, come ci diceva prima il pastore Gianra. Sì, ovviamente il controllo che fa l'ufficio insieme con la Commissione è un controllo ex ante, quindi prima che le attività vengano realizzate, proprio per cercare di capire se quell'intervento è meritevole di finanziamento oppure no. C'è da sviluppare, e lo è stato fatto quest'anno, su un mandato del Sinodo dello scorso anno, ma insomma il grande lavoro inizierà adesso nei prossimi mesi, vista anche l'ordine del giorno approvato ieri, tutta la parte dei controlli o è esposto in itinere, quindi il monitoraggio man mano che le attività progettuali vanno avanti. È una delle grandi sfide dell'ufficio e dell'otto per mille in generale. Noi quest'anno abbiamo iniziato ad implementare le visite in loco, sono stati insomma visitati molti progetti sia in Italia che all'estero. Stiamo un attimino ragionando ed inizieremo a farlo perché ci rendiamo conto che in realtà alcuni tipi di controllo, anche al fine di valutare quello che è l'impatto, perché no, insomma nella regione, in quel determinato settore, nel corso degli anni dell'otto per mille devono essere fatte da persone che hanno delle competenze tecniche in differenti settori. Mi vengono in mente persone esperte in materia sanitaria, per tutti quegli interventi sanitari che ad esempio sosteniamo in tantissimi paesi stranieri, piuttosto che anche tutta una riflessione su quanti pozzi sono stati costruiti con l'otto per mille, in che modo è stato garantito magari un miglioramento dell'accesso all'acqua in alcune zone. E quindi il lavoro che si inizierà a fare da settembre sarà proprio quello, con l'accompagnamento tecnico di alcuni nostri partner protestanti, insomma con i quali lavoriamo e che ci sostengono da tempo e che svolgono questa attività da anni in maniera assolutamente egregia, proprio di contrattualizzare delle persone che su preciso mandato dell'ufficio e della tavola con precise indicazioni avranno anche il compito di non solo controllare il progetto ma fare un po' quella che viene chiamata insomma l'analisi di impatto, perché ci piacerebbe nei prossimi anni poter portare magari al sinodo proprio una valutazione sull'impatto che in alcune zone e in determinati settori, perché sarebbe impossibile farlo per tutti, l'otto per mille ha avuto nel corso di questi anni. Quindi questo è un po' insomma il lavoro che ci aspetta nei prossimi mesi. Quindi un'assoluta selezione nei limiti del possibile delle forze della Chiesa Valdese, che ricordiamo che è una piccola realtà, non è una grande agenzia di distribuzione di fondi, ma è pur sempre una Chiesa cristiana, quindi un grande sforzo nel controllo del progetto, nella fase di analisi delle richieste, ma soprattutto, oltre che di controllo economico finale, proprio di ricaduta. Cioè questi progetti che sembrano sulla carta validi e che sono presentati da organizzazioni piccole o grandi, valide, poi realmente hanno un'utilità nel territorio dove vengono attuati. Questo il sinodo non è stato reso edotto. È un'altra particolarità, una novità forse degli ultimi anni, laddove c'è un consolidamento in questa attività che vi va avanti da parecchio tempo, dove si è vista anche una leggera flessione nel numero delle firme raccolte, nel senso che eravamo abituati a progressioni incredibili in percentuale dell'aumento delle firme. Per la prima volta nel 2012, che è il dato che abbiamo avuto quest'anno, c'è stata una leggera flessione di alcune migliaia di firme. Ricordiamo che la Chiesa Valdese raccoglie circa 600.000 firme di italiani che presentano la dichiarazione dei redditi. La novità proprio degli ultimissimi anni è anche un maggiore ruolo da parte della Chiesa Valdese nel sostenere direttamente progetti, progettualità quindi, delle Chiese stesse. In questo sinodo è stato presentato il progetto della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, Mediterranean Hope, che appunto gode del sostegno dell'otto per mille valdese. Questo è un esempio, un altro esempio, forse anche quello dell'intervento nell'emergenza. Sì, negli ultimi anni è un po' aumentato questo tentativo di ragionare, non soltanto valutando quelle che sono le richieste che appunto ci arrivano dall'esterno, ma anche provando a fare una serie di riflessioni su alcune attività che di fatto le nostre Chiese possono portare avanti sul territorio. Attività più grandi, come ad esempio il progetto Mediterranean Hope, è strutturato, insomma, posto nel sud Italia, ma strutturato a livello nazionale e probabilmente anche con una parte che insomma si dovrà sviluppare nei prossimi mesi in Marocco, quindi all'esterno del territorio italiano, però anche piccole attività di tipo diaconale o di tipo sociale che le Chiese svolgono sul territorio. E diciamo che da questo punto di vista, insomma, lo strumento dell'otto per mille può essere appunto un aiuto in più per le Chiese per poter portare avanti questo tipo di lavoro o magari immaginare delle azioni un po' più ampie rispetto a quelle che molte Chiese comunque portavano già avanti indipendentemente dai fondi otto per mille. Quindi quello che si nota è, diciamo, una crescita anche in tutto ciò che è la progettazione e lo sviluppo di questi tipi di interventi. Grazie. Queste sono fondamentalmente le novità introdotte dalla discussione sinodale di quest'anno sulla linea del consolidamento dei punti che non sono stati variati. Chiederei se ci fosse qualche domanda da parte dei giornalisti presenti. Devo sul 75% dei progetti che sono stati rifiutati. Sono stati rifiutati perché erano insostenibili, perché erano discutibili. E poi come sono cambiate le richieste di progetti e cioè in quali settori di intervento, se le migrazioni di questi ultimi tempi hanno anche cambiato e spostato i tipi di progetti, quindi le richieste. Sì, il 75%, poi non so se sia esattamente questa la percentuale, la responsabile dell'ufficio potrà essere più precisa. Perché vengono rifiutati? Beh, per ragioni diverse. Vi sono anche dei vizi di forma. A volte la documentazione è del tutto insufficiente. Allora, si ha l'impressione, per esempio, che evidentemente il progetto sia stato confezionato un po' in fretta per provare ad ottenere un finanziamento. Ecco, questo è già... Per esempio, se ci rendiamo conto che l'associazione è nata a Vantieri, già questo ci dice, forse è nata espressamente per poter avere un finanziamento e per creare anche dei posti di lavoro. Il che in sé è una cosa assolutamente positiva, ma è evidente che noi non vogliamo semplicemente garantire dei posti di lavoro a qualcuno che altrimenti non saprebbe bene che cosa fare. Si spazia, ovviamente, in ambiti assolutamente diversi. Susanna Pietra potrà raccontare molte esperienze, ma io stesso sono stato coinvolto sia in Italia sia all'estero. Dopo eventualmente vi racconto delle esperienze che ho vissuto in Africa. Sono stato due volte a visitare dei progetti che abbiamo in Africa molto interessanti. Ma per quanto riguarda l'Italia, per esempio, conosco personalmente tutta una serie di progetti, anche qui del Pinerolese. Faccio un solo esempio. Due associazioni svolgono un lavoro, a mio avviso, eccellente, e chiedendo dei finanziamenti assolutamente piccolissimi, insomma, dignitosi ma piccolissimi, per consentire alle famiglie che hanno dei figli con dei problemi di disagio psichico grave di avere dei momenti di sollievo durante l'estate. Voi dite, beh, ma questa non mi sembra una cosa che cambia la vita. Può essere un aiuto fondamentale, perché noi sappiamo benissimo che quando si hanno dei figli con una disabilità psichica grave, spesso, in larga parte, a carico dei genitori stessi, è fondamentale per queste persone poter avere, per un breve periodo nell'anno, magari avendo i loro figli accanto, ecco, ma poter avere, poter svolgere un momento, vivere un momento di relax. Queste cose ci pare importante sostenerle, perché sovente non sono sostenute da nessuno. Vi sono sì delle grandi fondazioni, ecco, penso a Paideia, che è una fondazione molto grande, ma queste fondazioni accompagnano queste persone, queste famiglie in particolare, al massimo per due anni, e poi dicono, beh, adesso dobbiamo accompagnare qualcun altro, dobbiamo rivolgersi ad altri. Avere quindi la possibilità, invece, per garantire un sostegno nel corso degli anni per le persone che hanno questi pesi familiari così importanti, ci sembra una cosa molto bella. Ovviamente, come vi ho detto, in Italia, in tutti gli ambiti siamo presenti. Ogni anno vi è un focus particolare della pubblicità dell'otto per mille, che sottolinea una volta la questione della violenza alle donne, un'altra volta l'importanza per consentire a dei giovani, magari, di mettere in piedi una piccola iniziativa economica che possa consentire loro l'avvio di una piccola impresa economica che poi possa camminare sulle proprie gambe, e così via. Allora, ogni anno vi sono, certamente, delle associazioni nuove, delle onlus, che si rivolgono a noi per dire considerate la possibilità di sostenerci, ecco. E cerchiamo di fare quello che è possibile. Ovviamente questa cifra, che è diventata molto importante, è infinitamente insufficiente a rispondere a tutti, o quasi a tutti. In altri casi, questo lo dobbiamo anche dire, ci rendiamo conto subito che il progetto non sta in piedi, ecco, sostanzialmente. Se l'associazione è nata avanti, l'ho già detto, c'è subito, c'è un'immediata diffidenza, ma soprattutto se non vi sono altre fonti dalle quali queste persone che presentano il progetto possono portare avanti il progetto, possono sostenere il progetto. Cioè, se ci presentano un progetto da 300.000 euro e chiedono 295.000 euro all'otto per mille valdese, è evidente che c'è qualcosa che non funziona. Quindi è importante cercare di capire, di dialogare anche con queste persone per riuscire a comprendere qual è la sostenibilità del progetto, perché un progetto sovente non dura semplicemente un anno, ma va poi accompagnato nel corso di qualche anno. Eccoci, c'era una coda di domanda che riguarda quanto il problema migratorio, lo sviluppo del programma migratorio ha inciso sui fondi otto per mille. Forse Susanna Pietra ci può dare una velocissima risposta in merito. Sì, come ha già detto il pastore Gian prima, sono sicuramente aumentati tanto quei progetti che riguardano l'accoglienza dei migranti sul nostro territorio. non soltanto Mediterranea, no, poi progetti portati avanti dalle chiese, ma sempre più associazioni in alcune particolari zone geografiche, perché non ovunque ci presentano questo tipo di iniziative. Però una cosa molto interessante, che forse si nota meno, ma che noi appunto come ufficio abbiamo notato, è che in realtà l'aspetto poi diverso del fenomeno migratorio è che iniziamo a ricevere sempre più domande di unioni di immigrati presenti in Italia da parecchio tempo, che si sono consolidati, che hanno trovato un lavoro e che risiedono qui, e che formano delle associazioni con lo scopo di realizzare dei piccoli progettini nei loro paesi di origine. E questo, diciamo, che secondo me è un elemento che forse si nota ancora poco in questo lungo elenco di progetti, ma che in realtà comincia a svilupparsi e a consolidarsi sempre di più. e noi lo teniamo sotto osservazione. Ci sembra una cosa molto interessante, perché si tratta di piccole iniziative, ma molto spesso, proprio valutando i progetti, anche i membri della Commissione percepiscono proprio l'effettiva conoscenza del bisogno, anche più piccolo, delle necessità del territorio, l'effettiva concretezza del progetto che questo tipo di associazioni in realtà presentano. Quindi questa, secondo me, è una cosa interessante che, insomma, terremo sott'occhio per i prossimi anni. Aggiungo solo un ultimo elemento a quello che già diceva sempre il pastore Jean, riguardo appunto a questa percentuale di progetti che non vengono approvati. Questa è una percentuale di massima che però tiene conto fondamentalmente di tre cose fondamentali. I progetti che sono presentati in maniera non corretta, quindi che vengono direttamente bloccati dall'ufficio, perché presentati da soggetti non elegibili e quindi non valutati dalla Commissione. I progetti valutati negativamente dalla Commissione, però poi purtroppo appunto in questa percentuale ci sono anche quei progetti che, seppur dei progetti ritenuti positivi, non vengono approvati per mancanza di fondi e perché necessariamente bisogna poi stabilire una graduatoria, perché appunto le richieste sono assolutamente superiori ai fondi che sono disponibili. Quindi il panorama dei progetti non approvati in questa percentuale del 75% è molto variegato. Grazie. Ci sono altre domande? Grazie Diego Meggiolaro per Radio Beckwith e Riforma. Volevo sapere una cosa. Se da parte del Sinodo c'è stata una riflessione o anche da parte dell'ufficio 8x1000 su quella che è quest'anno un po' la notizia principale per quanto riguarda le firme 8x1000, ovvero che siano calate dopo anni e anni di crescita. C'è una riflessione, c'è stata oppure pensate che sia un evento fisiologico? Grazie. C'è stata una riflessione breve in Sinodo, anche perché il calo delle firme è poco significativo. Insomma siamo passati, se ricordo esattamente, da 617.000 a 604.000. Questo è dovuto da parecchi, probabilmente vi sono parecchie motivazioni. Ecco, non so neanche se quelle che abbiamo individuato siano tutte le motivazioni possibili. Certamente il fatto che alcuni soggetti con la crisi economica non sono più stati tenuti a fare la dichiarazione dei redditi, per esempio. Poi siamo anche certi che questa crescita non potesse continuare così in modo esponenziale, perché noi negli ultimi anni abbiamo avuto una crescita di circa 100.000 firme all'anno in più. Quindi è evidente che a un certo momento poi devi stabilizzarti un po'. Pensiamo addirittura che vi sarà anche nei prossimi anni un assestamento, diciamo così, del numero delle firme per ragioni diverse. Ecco, perché vi sono altri soggetti che possono diventare e che sono diventati destinatari dell'otto per mille degli italiani. Quindi non pensiamo di essere gli unici che fanno le cose bene, anzi, assolutamente. Vi sono delle realtà religiose che finalmente possono essere riconosciute attraverso il meccanismo dell'intesa e che dunque avranno accesso e stanno avendo accesso all'otto per mille. Vi è anche la Chiesa Evangelica Battista con cui noi abbiamo una collaborazione estremamente importante in Italia. Tutte queste ragioni fanno sì che effettivamente un piccolo assestamento o forse un pochino più significativo nei prossimi anni vi sarà. Questo lo vedremo. Rimane il fatto che abbiamo una responsabilità enorme, enorme, perché 600.000 nuclei familiari sono una realtà immensa rispetto alla piccolissima, infinitesimale realtà numerica delle nostre Chiese. Noi siamo 30.000 in Italia con i bambini simpatizzanti, eccetera. Quindi 600.000 vuol dire che 20 volte tanto sono le firme che ci vengono dagli italiani che ci danno fiducia in qualche modo. È una responsabilità, ve lo dico francamente, che fa tremare i polsi. Perché noi sappiamo benissimo che questo denaro non è nostro, sono gli italiani che lo mettono a disposizione e noi cerchiamo di restituirlo agli italiani e non solo agli italiani in modo responsabile dicendo loro non lo utilizziamo per pagare i nostri pastori, le attività della Chiesa, le attività di culto, diciamo così, ma esclusivamente per i fini, come sapete, per fini di solidarietà, anche culturali, eccetera, che vogliamo mantenere in Italia e all'estero e che vogliamo sostenere in Italia e all'estero. Bene, vi chiederei se ci sono altre domande, altrimenti possiamo considerare terminata a questa terza conferenza stampa del Sinodo della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese Metodiste Valdesi, nella sessione europea del 2015 e quindi io darei un saluto agli ascoltatori di Radio Bequite Evangelica e di Radio Voce della Speranza e un appuntamento a domani, sempre alle 12.30, per un'altra conferenza stampa. Grazie a tutti i partecipanti e buongiorno. Grazie a tutti i partecipanti Grazie a tutti i partecipanti Grazie a tutti.